Noi abbiamo dovuto cambiare macchina per questo motivo, grazie all'appendino. Io ho un gasolio Euro 3, però sono favorevole al blocco di tutti i veicoli, benzina e gasolio, come si faceva quando c'era la crisi energetica, perché a questo punto per bloccarne un terzo che poi quasi tutti sfuggono, mi sembra più logico bloccarli tutti. È un pagliativo, è una soluzione temporanea che si può utilizzare per tamponare, ma visto che continua a ripetersi la situazione, probabilmente le misure che andrebbero adottate sarebbero diverse, dovrebbero essere diverse. Se la situazione è questa perché l'aria è malsana, penso sia giusto. Potrebbe esserlo, iniziare con queste iniziative sarebbe la soluzione migliore. Il decreto clima che dà 1.500 euro di bonus per la mobilità sostenibile se si rottama la vecchia auto, è una soluzione? No, perché infatti io non ho aderito. Sì, anche se in questo momento comprare le auto è una grossa spesa, quindi uno giustamente deve avere anche la disponibilità per acquistarle, però è un incentivo. La gente compra tante macchine e poi alla fine te le bloccano. L'incentivo dei mezzi pubblici, piuttosto che gli incentivi concreti, veri, reali, ad acquistare nuove auto, che secondo me adesso non ci sono perché con 1.500 euro non compremmo neanche un monopattino elettrico, per cui figuriamoci una macchina nuova. Bisogna vedere se c'è una convenienza, un ritorno anche perché uno magari ha comprato un'auto, ha speso dei soldi e non è con 1.500 euro che risolvi la situazione. Eh, cosa si potrebbe fare? Sai che non so, perché tanto ne studiano una e ne fanno subito un'altra che non va bene. Comunque in città bisognerebbe proprio puntare sul trasporto pubblico, perché è inutile che uno per 500 metri in chilometro utilizzi la macchina.